Musica Però che quattro ruote? E' un macinino, capitano Inserire la chiave Azionare l'accensione E non succede niente Dov'è l'acceleratore? Ah, eccolo lui Interessante Era il cambio Già Ah, credo che abbia anche un congegno Che chiamano frizione Eh, sì, frizione Forse uno di quei pedali lì in basso Provi a schiacciare Ah, mi piace Ne prenderò una a chi E' un'altra a chi Ah, mi piace Capitano, lei è un ottimo comandante d'astronauti, ma come taxista lascia molto a desiderare. Ho guidato così male? Sì.